Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi Prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale Tetteva la campagna E ragazzi se volete quella vostra clip di Call of Duty Warzone La vostra clip personalizza tutta vostra Warzone Legacy, My Warzone Legacy Guardate questa guida Ok, allora in questo nuovo tutorial vi spiego come scaricare Call of Duty Warzone 2.0 Molto semplice, basta scaricarlo da Steam Non ci vuole niente Dobbiamo prescaricarlo E domani che sarebbe il 16 di novembre lo rilasceranno Quindi prescaricatelo adesso e giocate domani Quindi andate sul negozio Scrivete Call of Duty Questo qui Modern Warfare 2 Eccolo qui Scendete fino a giù Qui vi uscirà di scaricare Call of Duty Warzone 2.0 A preload Quindi a pre-download Date su download Ed eccolo qua Poi scegliete il vostro percorso dove installare il vostro gioco Ed è fatta Alla fine sono solamente 25 GB Quindi non so se lo lasceranno anche su battle.net Il launcher dove stanno tutti i goal of duty Quindi una volta scaricato non so se possiamo lanciarlo oppure andare nel menu però non possiamo giocarci E niente ragazzi Quindi grazie a tutti per questa visione Se questo video vi è stato utilissimo Io vi consiglio come ho detto all'inizio di iscrivervi Di lasciare un like E se volete anche un super grazie per sostenere il canale Quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao